Vediamo quindi gli aspetti fiscali e normativi in Italia e parliamo appunto di fiscalità delle monete digitali. Intanto dobbiamo dire che le plusvalenze, ovvero tutte quelle operazioni che risultano in gain su una moneta digitale e una criptovaluta a titolo di persona e quindi fuori dal contesto e dal regime di impresa, sono assimilabili a quelle sulle valute estere, quindi le plusvalenze sulle criptovalute sono assimilabili a quelle sulle operazioni, a quelle sulle plusvalenze al gain che viene ottenuto sulle valute estere e quindi sono tassabili dal punto di vista IRPEF, quindi ai fini IRPEF, però solo sopra la soglia dei 51.645,69 euro considerati come giacenza media dell'insieme dei wallet totali per almeno 7 giorni consecutivi in un anno. Quindi in questo caso il capital gain generato nel corso dell'anno sarà soggetto a una determinata imposta sostitutiva che quindi dicevamo prima essendo assimilabile a quello sulle valute estere è quello, l'aliquota diciamo è del 26% e dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il quadro viene utilizzato il quadro RW1 che è quello relativo alle altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali e bisogna comunque specificare che adesso abbiamo parlato di fiscalità delle criptovalute dal punto di vista dell'asset fisico, ma nel momento in cui voi andate a comprare o acquistare o fare trading su un derivato per esempio, su un CFD oppure su un altro tipo di strumento come un ETF oppure un fondo, allora voi sarete soggetti a quella che è la normativa riguardante quel determinato tipologia di strumento. Quindi le plusvalenze su strumenti con sottostanti le criptovalute come CFD, fondi piuttosto che altri strumenti seguiranno la tassazione dello strumento stesso. È importante che sappiate che la mancata compilazione del quadro RW2 comunque genera delle sanzioni, nonostante l'articolo 10,2 dello statuto del contribuente che definisce che non si possono subire sanzioni nel caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, però quindi fate attenzione perché comunque, ripeto, la mancata compilazione del quadro RW2 può crearvi delle problematiche. Quindi mi raccomando fate sempre presente questa, se voi andate a scambiare criptovalute come asset fisico, fatelo sempre presente al vostro commercialista. Per quanto riguarda il presupposto invece di assimilabilità alle valute estere, quindi per quanto riguarda le plusvalenze assimiliabili a quelle delle valute estere, è stato contestato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questa tipologia appunto di similitudine e da questo nasce il dubbio sulle norme di fiscalità applicabili e di conseguenza anche poi quello che può essere un appiglio sulla mancata compilazione del quadro RW. In tutti i casi cercate di mantenervi più aderenti possibili alle normative, rispettatele perché è estremamente importante perché le sanzioni possono essere anche molto pesanti. Quindi questo è il quadro della fiscalità delle criptovalute in Italia e quindi diciamo che vi abbiamo dato una panoramica e un overview di quelli che sono gli aspetti normativi. Parliamo adesso invece della normativa di riferimento per i singoli paesi e per le aree geografiche tra cui in particolare l'Unione Europea e gli Stati Uniti e vediamo che non esiste attualmente una normativa di riferimento specifica e dettagliata ma solo degli indirizzi che vengono forniti dai singoli paesi. Quindi questo l'abbiamo detto già in precedenza, le criptovalute, il mondo digitale, il mondo delle valute digitali è un mondo che è piuttosto assente dal punto di vista della regolamentazione, quindi ancora indietro dal punto di vista legislativo. L'Unione Europea ha definito determinate linee guida e con la direttiva del 2018 843 ha dichiarato che dentro 10 gennaio 2020 i singoli paesi avrebbero dovuto inserire la valuta virtuale nelle varie direttive, quindi ha cercato di muoversi in quella direzione già dal 30 maggio del 2018. Abbiamo visto che si fa molta fatica a riuscire a dare delle direttive univoche per quanto riguarda la parte legislativa e la regolamentazione della moneta digitale ed è un argomento piuttosto spinoso e piuttosto scivoloso. Quindi in questo momento anche nell'Unione Europea in generale siamo piuttosto assenti per quanto riguarda le direttive diciamo e le normative da applicare al mondo delle criptovalute, quindi si stanno facendo dei piccoli passi nella direzione di rendere diciamo sempre più chiaro e trasparente questo mondo, però i passi diciamo non sono stati ancora effettuati tutti, quindi sono degli step che vengono fatti per cercare di rendere il mondo delle criptovalute il più regolamentare possibile. Negli Stati Uniti esistono invece diverse regolamentazioni sia locali che federali definite dalla SEC, la Securities and Exchange Commission e oltretutto il Presidente Joe Biden ritiene estremamente sensibile l'argomento, quindi sta lavorando sullo studio di nuove normative mirate soprattutto a quella che è la lotta al cybercrime. Con questa ultima slide collegata agli aspetti fiscali e normativi abbiamo concluso questo nostro primo modulo dedicato a quello che bisogna conoscere del mondo delle valute digitali e delle criptovalute e quindi possiamo passare al secondo modulo che invece è dedicato al perché investire nelle criptovalute e quindi ai pro e i contro del trading e degli investimenti nelle monete digitali.